In chiesa durante la messe il prete chiede se tra i fedeli c'è qualcuno che vuole ringraziare il Signore per la grazia ricevuta. Se alza una signora e fa voglio ringraziare il Signore perché mi marito Spartaco cinque giorni fa ha avuto un incidente gravissimo e si è schiacciato tutto lo scroto. I fedeli tutti che incrociano le gambe sentendo il dolore a loro volta di quello che può aver passato sto uomo. Sì, c'era talmente tanto dolore che neanche i medici riuscivano a capire che potevano fare. Ma a un certo punto hanno trovato una soluzione, gliel'hanno ricostruito tenendolo con dei punti metallici lo scroto e quindi nei primi giorni non riuscivo a tenere nemmeno i miei figli ma alla fine è tutto migliorato e fortunatamente mi marito Spartaco è tornato a casa dall'ospedale. Allora il prete fa c'è qualcun altro che vorrebbe dire qualche cosa? Se alza il Signore piano piano si avvicina e fa vorrei diammi moglie che la parola giusta è esterno, no scroto.